This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Settore Giada, Olmi. Ti porterò sulle rive del fiume, all'ombra degli Olmi. E con poche parole diremo cose importanti, e non avremo paura del passare del tempo. E non avremo paura, e non ti lascerò mai. Mai, 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 mai. E non avremo paura del passare del tempo. E non avremo paura, e non mi lascerai. E non mi lascerai. E non avremo paura, e non mi lascerai. Tornarendo E non avremo paura, e non mi lascerai. Come on, come on Where have you been? Where have you been? My Goldie Heart Not Talking Excuse me, sir Do you want to move the line? Yeah, do you want to move the line? Yeah, I'm sorry Do you want to keep walking? I'm just not talking to you Do you want to keep walking? I'm just not talking to you Do you want to keep walking? I'm just not talking to you Do you want to keep walking? I'm just not talking to you Do you want to keep walking? I'm just not talking to you Grazie a tutti. 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 Now, Grazie a tutti. 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 Marco Buracchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.